Ma noi utilizziamo la parola pellegrino come dispregiativo. È la cosa più folle del mondo. Dovrebbe essere un complimento, sei un pellegrino. Grazie, caro. Chi va non sbaglia mai? E chi rimane fermo che sbaglia? Il pellegrino non solo va, ma va lento, va silenzioso. E la sua benzina è la fede, che è una delle cose più belle del mondo. E te lo dice sempre uno sbattezzato, perché la fede non è solo la fede in Gesù Cristo. La fede può essere la fede semplicemente in un qualcosa di più grande. E io lì, che stavo facendo il cammino di Santiago da solo in bicicletta, mi sono vergognato di essere in bicicletta, perché andavo troppo veloce. Loro andavano giusti. Quindi non importa dove vai. Anche perché i nomi delle nazioni, i confini, il numero dei posti che vedi, più vedi, più scopri, più viaggi, più ti rendi conto che non vale niente.